Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di vita da youtuber Come vedete ho la bellezza di 415 iscritti quindi sono praticamente famoso E nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati che ho costruito la mia nuova postazione Questa si che è una postazione fantastica Tutti mi avete detto ti prego continua porta un altro video Facci vedere la postazione finale La postazione da youtuber ricco da milioni e milioni di iscritti E quindi ok ragazzi va bene io vi accontento Qua abbiamo un computer bellissimo con una scheda video potentissima La schiavania è tutta quanta RGB Abbiamo le luci abbiamo la cam E adesso andiamo in live si entra in scena Allora l'ultima volta abbiamo sbloccato il moderation shooter L'ultimo gioco che ci permetterà di ottenere milioni di iscritti è il TNT Run Mentre invece il moderation shooter come vedete serve per moderare i commenti che ti arrivano Quindi adesso ci arriveranno i commenti buoni e i commenti cattivi E noi ovviamente dobbiamo bannare i commenti cattivi Perché nessuno vuole i commenti cattivi nel proprio canale giusto Ecco quello è un commento cattivo perché è rosso Cerchiamo di prenderli tutti perché l'altra volta ho fatto un po' una figuraccia Ok solo commenti buoni fantastico Cosa ha detto quello ha detto che i miei video fanno schifo Cosa ha detto quell'altro che io non sono un imperatore via E tu cosa cosa No 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 ragazzi ci sono troppi commenti cattivi qua Oh cavolo ho cancellato uno che mi ha detto che mi voleva bene Oh no 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 ho sbagliato Ho decisamente sbagliato Ok stanno passando soltanto commenti positivi No tu non passi Fermo lì Bannato istantaneamente Oh cavolo c'è un No no ho dovuto cancellare un commento positivo Perché era vicino a un commento negativo No Oh mio dio stanno passando troppi hater Non ci posso credere ho perso un iscritto Ok sono passati troppi hater e ho perso un iscritto Nuovi iscritti quanti? 52 Beh se non altro faccio un bel po' di soldini 1735 soldini Quindi ho la bellezza di 5000 coin Che non credo siano abbastanza per trasferirsi Perché se non mi ricordo male l'ultima volta l'ho pagato più di 20.000 euro per cambiare casa Fatemi dare un'occhiata Allora questa qua è la nostra città E ci sono più negozi C'è il negozio di elettronica e il negozio delle case Non esiste nessun altro negozio Cioè non ci sono i supermercati Noi non possiamo mangiare Mangiare Pfff A cosa serve il mangiare quando sei uno youtuber? E quindi qua compriamo la casa E qua compriamo le cose per il computer Ok vediamo 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 Una nuova casa Costa la bellezza di 5 50.000 coin Oh mio dio però che cos'è una villa? Vediamo se posso comprare qualche nuovo pezzo del mio computer Allora Ci mancano giochi Pannelli Fonoassorbenti Quindi per il suono Un mini frigo Cioè scusate io c'ho un milione e passa gli iscritti E il mini frigo non ce l'ho ancora A cosa serve il mini frigo? 3 monitor Questo ci può servire Prendiamo 3 monitor assolutamente Sì 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 Che cos'è altro? Tassiera da gaming È vero Non ce l'avevamo Quindi la prendiamo Delle cuffie migliori Oh cavolo Quindi ce n'è ancora di roba che devo comprare Vabbè grazie eh Me ne vado a casa Arrivederci Ok effettivamente dobbiamo sicuramente migliorare Ancora abbiamo soltanto 400 iscritti E io in questo episodio ne voglio fare almeno un milione Io pensavo di averla già finita la mia scrivania Con tutte quante le cose strabelle del computer Invece evidentemente no Mettiamo adesso allora il triplo schermo Che nella vita reale non ce l'ho neanche io il triplo schermo Quindi figuratevi Ok Wow 3 schermi E cambiamo questa tastiera Non si può vedere Ora sì Adesso è tutta luminosa Una tastiera da gaming Allora a dire la verità Il mio preferito di tutti era la caccia al diamante Cioè questo qua Mi ha fatto fare tantissimi soldi E mi divertivo Perché ci mettevo 3 secondi a farlo E andava veramente benissimo Quindi proviamo di nuovo la caccia al diamante Allora semplicemente Dobbiamo scavare questa fossa E cercare un diamante Se non mi ricordo male però Si trovava più o meno sempre qua E vediamo Se riusciamo a trovarlo nello stesso punto Sarebbe fantastico Quindi scava 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 Qualcuno mi dia il diamante per favore Ho bisogno di fare tanti iscritti No mancano 20 secondi ragazzi Non lo troveremo mai Ok Ho trovato Boom Boom E in più ho vinto un bonus di 35 nuovi iscritti Quindi vediamo Vediamo Arriviamo a Allora soldi 1.800 1.800 Ok E iscritti 450 Non male Ma io non dormo mai No Niente La mia vita è soltanto fare video e fare live stream Ok Di nuovo Andiamo Proviamo a rifare la competizione Delle torte Il mini gioco preferito di Bella Faccia In pratica abbiamo 40 secondi Per mangiare quante più torte possibili E ovviamente quante più ne mangi Meglio è Quindi dai 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 A questo gioco Bella Faccia sarebbe veramente un campione Devo essere più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Oh mio dio Dai Mangia 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 Tra l'altro sono buonissime queste torte Quindi se non altro Non sarà difficile mangiarle Andiamo 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 Dai Mancano 20 secondi Ne posso mangiare ancora qualche altro tavolo Certo che poi l'indigestione Probabilmente il mal di pancia Fino a dopo domani Dai 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 Ancora 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 Ok ho un calo di zuccheri Devo mangiare più torte Più torte Mi raccomando voi non lo fate a casa Questo non vi porterà molti più iscritti Nel vostro canale youtube Anzi Probabilmente non ve ne porterà neanche uno Dai 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 Oh mio dio Non ci credo Ho finito tutta una fila di tavoli Non ci credo Quanti iscritti Quanti iscritti E la bellezza però Di 1922 monete Fantastico Paradossalmente faccio più soldi Che iscritti Questa cosa non ha senso In realtà è il contrario Ok torniamo a moderare i nostri commenti Cancelliamo i commenti Degli hater cattivi Cosa ha detto quello Mi puzzano i piedi No 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 Ho cancellato uno Che mi ha detto che mi adora Porca miseria Devo cancellare solo quelli cattivi Non quelli verdi Dai 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 Ecco cattivo Cancellato Benissimo Certo che se avessi magari Dei moderatori Che mi danno una mano Sarebbe anche più facile No Ho cancellato uno Che si era appena iscritto Mannaggia Devo fare molta più attenzione Via Ok Distrugge anche qua No Porca miseria Stanno passando Troppi commenti negativi Distruggili Ok non è passato neanche uno Ok uno è passato Porca miseria Ne stanno passando Troppi ragazzi Non riesco più a fermarli C'ho troppi hater Ma perché mi odiano Che cosa gli ho fatto No Ho letto uno Che mi aveva detto Addirittura Che ero un nabbo Di minecraft Questa cosa è impossibile Quel tizio sicuramente Stava guardando i video Di qualcun altro Bene C'ho 6.000 dollari Quindi Sì io mi butto così Dalle scale di solito C'ho 6.000 dollari Quindi probabilmente Posso comprare qualcosa di nuovo Allora Va bene Ok Mi compro anche questa La mensola Con i videogiochi Non so che senso abbia Sinceramente Se poi devo giocare Sempre gli stessi Il mini frigo Me lo devo comprare Non me lo posso permettere Troppo caro Posso comprarmi le nuove cuffie Sì E basta L'unica roba che Oh no 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 E posso comprarmi anche I pannelli fonoassorbenti Adesso devo comprare Solo il mini frigo E dopo di che La mia postazione Sarà completa Chissà nella prossima casa Che cosa dovremo comprare Allora Pannelli fonoassorbenti Mensola Pannelli fonoassorbenti E le nuove cuffie da gaming Direi che siamo pronti Ok ora si che questa È una signora postazione Da gaming Mi piace È arrivato il momento Di bannare quelli Che dicono Che mi puzzano i piedi Come vi permettete E via E anche tu via Ok ok Solo commenti positivi Mi piace Vibes positive No Questi sono negativi Allora bannato Bannato E bannato E anche tu Bannato E bannato E anche tu bannato E anche tu bannato E anche tu bannato Distruggi Non vedrai mai la luce del sole Stupido commento negativo Non voglio commenti negativi Nel mio canale Voglio soltanto Pace e amore No 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 Troppi Eh vabbè Diventa sempre più difficile Se hai tanti iscritti 2400 soldi Wow Magna 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 Più veloce Più veloce Più veloce Dai che questa volta Mi svuoto un altro tavolo Dai 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 No quasi Oh mi devi dare almeno 3000 Oh mio dio 3107 Ragazzi ho fatto i miei primi 1050 iscritti Ho la bellezza di 37000 monete Tra non molto Potremo comprare La nuova fantastica villa Non vedo l'ora Ragazzi Ho superato i 1200 iscritti E credo Sì 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 Abbiamo sicuramente superato I 50000 dollari Quindi adesso posso comprare La nuova fantastica casa Non sto più nella pelle Non vedo l'ora di vedere La mia nuova villa Cioè già questa Era stupenda Bellissima Ma a quanto pare Quell'altra sarà una villa Su un'isola Comprata Ok No Vabbè Sì è un'isola gigante Con questa villa Ed è tutta mia Stai scherzando Stai scherzando Allora ragazzi Ci tengo a dire Che nessuno youtuber Potrà mai permettersi Una casa del genere Quindi non so per quale motivo In questo gioco Te lo fanno fare Eh scusa Adesso Come faccio a trovare La camera mia Dov'è camera mia Allora qua c'è il letto Non penso che io debba fare I video Sul letto Qua c'è la tavola rotonda Di Re Artù È troppo grande questa casa Non riesco a trovare Non riesco a trovare La mia cameretta La mia postazione Ah è di qua forse Devo salire Ok È questa Wow Che scrivania Ma è una di quelle Con Con le sospensioni Quelle che si alzano E si abbassano Allora Sta lampada però Fa veramente schifo Cioè voglio dire Con tutti i soldi Che ho Ne potrei comprare Una migliore Cambiamo il computer Cambiamo anche la sedia Joystick Mensole Ok Questa è la mia nuova Mega postazione Della mia nuova villa Non vedo l'ora Di provare Il nuovo minigioco TNT Run Questo mi farà fare Il milione di iscritti Secondo me Per forza Dai È l'ultimo Ok TNT Run Perfetto Devo cercare di sopravvivere Quanto più tempo possibile Presumo no? No Contro gli zombie? Ok Devo sopravvivere 40 secondi In un TNT Run Contro gli zombie Non sarà per nulla facile Però questo potrebbe Potenzialmente Farmi guadagnare Un milione Di iscritti E io ho assolutamente Bisogno di quel milione Di iscritti Muoviti 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 Anzi facciamo così Dieci milioni di iscritti Perché accontentarsi? Andate bene via Stupidi zombie Devo resistere Devo resistere Altri 20 secondi Dai 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 Ce la puoi fare Ce la puoi fare Ce la puoi fare Oddio sono caduto Ok ce la devo fare Ce la devo fare No 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 Ragazzi No Non ci credo È molto più difficile Di quel che pensassi Però Mi è arrivata Una nuova sponsorizzazione Allora Promuovere l'Energy Drink Mind Fuel 2500 coin Meno 120 iscritti No 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 Io non voglio perdere iscritti Io li voglio guadagnare 200 nuovi iscritti Sì Però ho perso 1000 monete Mannaggia 36 iscritti e basta Da questo gioco Ehi ma che truffa Volevo arrivare a 10 milioni di iscritti Diamo un'occhiata al nuovo negozio Allora Tutto quanto l'ho già comprato Posso comprare un nuovo computer Che costa 40.000 Sì Una nuova tassiera 15.000 Nuovo mouse 12.000 Quattro schermi Oh mio dio Una sedia RGB arcobaleno Il green screen Lo stream deck E sto cavolo di mini frigo Dai lo compro Basta Basta che me lo togli da davanti Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un super mi piace Io nel frattempo Vado a posare il mini frigo Non ho la minima idea Di dove Doverlo mettere Sinceramente Non ha molto senso Secondo me Qua lo devo mettere Dove lo devo mettere Dove si mette il mini frigo Il mini frigo si mette in cucina Ok Torniamolo là Dal vostro channel è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao